Una forma di controllo, mettiamo così, perché lei giustamente ha detto che questo che è accaduto a questo commerciante in banca non deve accadere perché le disposizioni sono chiare. Quindi se c'è una forma di controllo o di difesa o di tutela che il cittadino può avere da parte del governo quando si trova davanti a queste situazioni. Dall'altra, noi ieri abbiamo provato a metterci in contatto ripetutamente con il sito dell'Inps che però evidentemente era in tilt. Insomma non è così semplice. No, non è semplice, è vero. L'emergenza tocca tutti, tocca anche le strutture nazionali, tocca anche la rete che è sovraccarica e quindi talvolta mette in discussione. Però, premesso che non è semplice, poi tutti dobbiamo fare la nostra parte. In termini di controlli, non soltanto per la questione bancaria, credo che ci voglia un insieme di incrocio. Ovviamente i primi che devono fare i controlli sono i vertici degli istituti bancari per quanto riguarda le banche. Ma io penso che i comuni e le associazioni dei consumatori devono trovare a questo punto una modalità comune, non speculativa, assolutamente, ma molto determinata nel far sì che tutte le regole che stiamo definendo vengano applicate. Io penso che il ruolo dei comuni crescerà nei prossimi giorni perché sono veramente il punto di snodo. Non tutto si controlla da Roma, non tutto si può decidere. Noi abbiamo fatto una prima erogazione, è insufficiente, ne faremo altre sicuramente, ma dobbiamo scegliere se, ad esempio, che i comuni possano diventare il punto di contatto. Sono quelli che conoscono meglio la realtà. Ecco.